Allora, buongiorno nuovamente. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme come possiamo praticamente utilizzare il framework delle collezioni per risolvere dei problemi pratici e quali sono i punti specifici di attenzione. Iniziamo a vedere il tipo di dato più semplice che corrisponde alle liste. Io qui vi ho riportato sostanzialmente la stessa classe persona che abbiamo utilizzato un sacco di esempi precedentemente e ho predisposto questo codice che sostanzialmente ha una serie di persone che sono inizializzate. Così evitiamo di scriverlo ogni volta ed è un po' più veloce da realizzare. Quando andiamo a utilizzare una lista? Allora, le liste servono sostanzialmente, l'abbiamo già visto, per mantenere un insieme di oggetti. rispetto agli array hanno un grosso vantaggio che non hanno un limite predefinito iniziale, quindi io non devo sapere in anticipo quanti saranno gli elementi che inserisco nella lista. A parte questo, sostanzialmente possono essere utilizzati come fossero degli array, perché hanno la possibilità di accedere a un elemento dato un indice, possono essere ordinati, tra l'altro l'ordinamento è possibile sostanzialmente perché c'è un ordine, quindi c'è un indice, e quindi questo è l'obiettivo. Allora, domanda sul metodo compute, allora ci arriviamo dopo. Iniziamo a parlare delle liste e poi arriviamo alle mappe e vedremo anche il metodo compute e compute if absent. Quindi ci arriviamo dopo. Quindi, se io ho bisogno di un insieme di un collettore, un contenitore di oggetti, uso una lista. Abbiamo già visto che ci sono vantaggi e svantaggi a utilizzare le due implementazioni predefinite delle liste, che sono ArrayList e LinkedList. In teoria potreste anche voi definire una nuova classe che implementa list. In pratica nessuno lo fa perché quelle due implementazioni soddisfano tutte le esigenze possibili, però in teoria sarebbe possibile. Quello che tendenzialmente io non faccio con la lista è fare una ricerca, perché se io vado a definire una nuova lista di persona, persone uguale a new LinkedList, andando ovviamente a importare sia lista, attenzione a importare già appunto utile e non le altre, che è LinkedList, se faccio persone.add.p1, persone.add.p2, Quindi andiamo ad aggiungere tutte le persone che abbiamo definito lì sopra. Posso tranquillamente andare a scandire le persone, ma la ricerca risulta più complicata. La classe persona si è definita, l'ho riportata qui sopra, l'ho copiata sostanzialmente da quelle che abbiamo fatto le volte scorse. Allora faccio così, faccio che fare l'export di questo file. Diciamo operazione, elezione LGL19. Ok, vi ho fatto il commit, così ce l'avete a disposizione. L'ho copiata dalle altre, ma se volete seguire, magari copiarevi esattamente la prima parte del codice, ce l'avete sul sul solito repository. Ok, se io devo fare una ricerca, ad esempio di Renzo, come nome, cosa devo fare? Devo andare a fare un for persona, p in persone, if p.get nome punto equals abbiamo detto Renzo allora faccio qualcosa se preferite volendo scrivere del codice dopo persona cercata è inizializzato uguale a null e qui andiamo a mettere cercata uguale a p e break e quindi qui dopo vado a dire se cercata è null system out println non trovata altrimenti l'abbiamo trovata e andiamo a stampare la persona cercata e quindi se non ho scritto stupidaggini in questo caso ha trovato una persona che si chiama Renzo ok se nome forse Renza non ne abbiamo e quindi ci dice non trovata è ovvio che tutte queste righe di codice che in questo momento vi ho evidenziato sono necessarie alla ricerca quindi è abbastanza scomodo fare una ricerca quello che può essere utile per una lista è per mantenere un insieme di persone in cui non devo fare ricerche per specifiche oppure se io voglio avere delle persone in un certo ordine per cui se ho una lista di persone con una classifica alle new scusate non persone ma persona in questo caso nella mia classifica andrò a mettere la persona che sta prima in classifica la seconda e via di questo passo per cui posso andare a recuperare quello che sta prima in classifica ok se invece io voglio andare a fare una ricerca la ricerca normalmente mi porta a scegliere un altro tipo di struttura dati che è quella delle mappe per cui immaginiamo di voler andare a mettere una struttura dati in cui abbiamo le nostre persone e il corrispondente codice fiscale e questo ci consente di fare una ricerca tramite codice fiscale a questo punto abbiamo una mappa diciamo di persona questo è il valore la chiave può essere un codice fiscale quindi potrebbe essere una stringa uguale new diciamo hash map e quindi andiamo a mettere l'anagrafica delle nostre persone importiamo hash map e importiamo map a questo punto andrò a mettere anagrafe punto put p1 anagrafe put secondo persona p2 non mi ricordo come si chiamava tslb 2 anagrafe punto put terza persona poi mi mi fermo la terza persona era i tre a questo punto tenete presente che se io devo andare a cercare una persona cercata che è la stessa variabile che ho definito sopra uguale a anagrafe punto get e qui vado a mettere il codice fiscale se andiamo a confrontare questa singola riga con queste righe qui è ovvio che è decisamente più semplice da scrivere più semplice da scrivere ha due implicazioni fondamentali uno per chi è pigro scrive meno caratteri e sostanzialmente fa prima e se devo scrivere meno caratteri scrivo prima il mio codice secondo aspetto fondamentale una delle regole fondamentali del software è che il numero di difetti è proporzionale al numero di righe di codice più codice scrivete più difetti introducete ok e normalmente il numero di difetti non è quasi mai zero quindi più righe di codice scrivete più difetti andate a introdurre ovviamente involontariamente quindi se voi scrivete meno codice il risultato è che avete meno difetti come effetto collaterale di quello che avete fatto domanda cosa cambia tra la prima lista e la seconda allora tra la prima lista e la seconda non cambia nulla era semplicemente per dirvi che se utilizzo una lista normalmente la uso se voglio fare una ricerca non per chiave o per un attributo ma bensì se voglio fare un accesso tramite indice per cui in una classifica per me è importante andare a capire chi c'è prima e chi c'è dopo se devo utilizzare una collezione di persone in cui fare una ricerca non andrò a scegliere una lista ma piuttosto andrò a scegliere una mappa quindi è importante il tipo di di struttura dati che andate a scegliere a questo punto piccolo ragionamento su questa su questa mappa che io vi ho appena messo come vedete ho aggiunto un codice fiscale come valore esterno alla nostra classe persona è sensato oppure è meglio mettere il codice fiscale dentro la persona quali sono i pro e i contro di queste due alternative allora avere il codice fiscale come in questo caso fuori dalla persona vuol dire che ho una classe più semplice ok e posso sostanzialmente andare ad aggiungere questo codice fiscale a posteriori o qualunque altro codice l'aspetto se volete negativo è che una volta che io ho fatto la ricerca e quindi ho la mia mio riferimento alla persona cercata come faccio a stampare il codice fiscale della persona cercata non è dentro la persona ma a me sì è un qualcosa di esterno e non posso neanche dato la persona andare a recuperare il il codice fiscale ok le mappe funzionano in una direzione soltanto data la chiave mi permettono di recuperare il valore non il viceversa ok volendo posso andare a scandire tutta la mappa finché trovo la persona e recupero il codice fiscale questo sì volendo lo posso fare però non è un gran modo di utilizzare una una mappa perché a quel punto ho una ricerca lineare molto poco efficiente è complicata da scrivere quindi in generale la raccomandazione è quando avete dei dati che fanno riferimento a una qualche entità come la persona che abbiamo messo qui tutti i dati vanno messi dentro quella classe quindi non è che metto il codice fiscale fuori perché lo uso solo per fare le ricerche e poi me lo dimentico no ragionevolmente è buona norma andare a mettere tutti i dati che fanno riferimento a questo a questa entità dentro la classe che la rappresenta quindi il codice fiscale lo metto qui e vado a mettere il codice fiscale come parametro del costruttore una volta che ho creato la mia persona dentro la persona ho messo codice fiscale nome e cognome e ovviamente andrò a mettere anche un metodo getter che esituisce il nostro codice fiscale a questo punto vado a correggere tutte queste anzi cognome nome moment A questo punto ho messo dentro la mia persona codice fiscale nome e cognomi invece di tenerlo fuori. Questo significa che quando vado a fare un'aggiunta qui andrò a mettere p1.getcodicefiscale p2.getcodicefiscale p3.getcodicefiscale ok? Quindi la raccomandazione è non tenete dati che fanno riferimento a una entità fuori dalla classe corrispondente perché altrimenti è complicatissimo dopo una volta che avete l'oggetto andare a recuperare la corrispondente chiave. a questo punto fatemi girare un'altra persona mettiamo due persone con lo stesso nome Allora, le mappe vanno benissimo quando io devo andare a fare una ricerca per chiave soprattutto se la chiave è unica Cosa succede se invece la mia chiave non è unica? L'abbiamo già detto la volta scorsa parlando delle mappe ma vorrei replicarlo questa volta quindi di nuovo metto una mappa string persona questa volta la chiamo per nome uguale new hash map e dentro questa mappa vado a mettere per nome sia la persona p2 che la persona p9 che hanno lo stesso nome p2.getNome virgola p2 scusate per nome punto add scusate non add put e put abbiamo detto p9 ora se vado a stampare la mia mappa ottengo soltanto un elemento pur avendone inseriti due ok l'abbiamo ne abbiamo visto la volta scorsa le chiavi devono essere uniche data una chiave abbiamo un valore di corrispondenza se vado a inserire più volte la stessa chiave l'ultimo inserimento sostanzialmente sovrascrive il valore quindi assegna a quella chiave un nuovo valore come faccio a gestire i casi in cui io voglio avere una ricerca per chiave ma le chiavi non siano uniche per cui il nome è un caso particolare ma ho anche altri casi immaginiamo di voler andare a prendere scusate tutte le persone che abbiamo messo nella lista persone fatta qua su dentro una mappa andandole a memorizzare per chiave è ovvio che una struttura di questo tipo mappa persona non può funzionare devo andare a mettere una struttura di tipo diverso devo andare a mettere una mappa che fa corrispondere a una stringa che è il nome non una singola persona ma più persone quindi posso andare a dire list di persona ok e questo vado a mettere lista per nome uguale new hash map aperta chiusa tonda questo vuol dire che la chiave di questa mappa sarà una stringa che nel nostro caso è il nome della persona e il valore non sarà una singola persona ma una lista di persone quindi nel caso ci sia una sola persona la lista conterrà un unico elemento nel caso in cui ci siano più persone con lo stesso nome la lista conterrà tutte queste persone quindi questo risponde un po' a una delle domande della volta scorsa ma è possibile avere una lista di liste in questo caso non una lista di liste ma una mappa di liste a questo punto come faccio ad aggiungere tutte le persone che ho nella mia lista persone dentro questa mappa quindi for persona p in persone allora non posso semplicemente dire lista per nome punto put p punto get nome virgola p ok perché ovviamente p è una persona mentre invece questo si aspetta che il secondo parametro della put ovvero il valore sia una lista quindi come posso fare il punto è che io non vado ad aggiungere nuovi valori devo aggiungere la lista la prima volta le volte successive la lista non la aggiungo ma vado semplicemente ad aggiungere gli elementi dentro la lista che compare in quel in corrispondenza di quel nome ok quindi quello che posso fare è dire lista di persona l uguale a lista per nome punto get p punto get nome usate non lista ma list a questo punto se la lista è presente e quindi è già stato inserita qualche persona che ha quel nome l conterrà un riferimento alla lista se la lista non è stata inserita l sarà uguale a null quindi if l uguale a null allora faccio l uguale a null linked list vado a creare la lista e poi faccio lista per nome punto add p punto get nome virgola l put non add a questo punto alla riga 109 ci arrivo avendo l che punta a una lista questa lista è stata o prelevata dalla mappa per cui esisteva già persone esistevano già persone con quel nome oppure la lista è stata creata e aggiunta dentro la mappa in ogni caso dentro la mappa a quel nome corrisponde quella lista e quindi posso fare l punto add la mia persona p a questo punto se faccio un system out println della mia lista per nome dovrei avere tutti i nomi con le corrispondenti liste che conterranno una o più persone e in un caso almeno quello del nome salvo ne avremo due stampo e quindi questa che vedete qua è la lista quindi vedete che a Giussi corrisponde questo a Renzo corrisponde ecco una cosa che non avevo visto la volta scorsa è che quando stampo il metodo to string di una mappa il risultato è tutto racchiuso tra graffe poi ho le chiavi seguite da un uguale seguite dalla stampa del del contenuto quindi del valore in questo caso il il valore corrispondente è una lista che ci ricordate stampa il contenuto con delle quadre quindi abbiamo i vari elementi tutti tutte le chiavi con un unico elemento e poi non c'è il doppio perché qua su non abbiamo aggiunto P9 e l'avevamo persona appunto persone punto add P9 ok non l'avevamo aggiunta perché l'avevamo aggiunta successivamente quindi a questo punto se eseguo eccolo qua vedete in corrispondenza del nome salvo ho una lista questa con due elementi allora questa operazione che vedete qua ovvero ho un valore che in realtà non devo creare ogni volta ma voglio aggiornare è un'operazione che può succedere molto spesso quindi una mappa di liste può succedere o nelle slide della lezione asincrona usavamo i contatori ma in generale può capitare spesso di avere un un nuovo valore per cui questa operazione qua volendo può essere fatta anche utilizzando per l'appunto il compute per cui vi ricopio tutto vi rigenero la lista tolgo questo ma semplicemente scrivo creo una nuova lista e la faccio puntare dallo stesso lo stesso valore quello che posso andare a fare è lista per nome punto compute ok e fa sostanzialmente un'operazione di remapping ok quindi prende allora volevo farvi vedere la dichiarazione della funzione che eccola qua su allora compute prende una chiave in questo caso una stringa che è il tipo di chiave di questa mappa e accetta come secondo parametro una una b function cioè una funzione che riceve due parametri che sono una stringa e una lista ok quindi mi dice sostanzialmente che cosa c'è al momento dentro la mappa in corrispondenza di quella chiave mi dice sia la chiave che il valore e mi restituisce una lista quindi l'obiettivo di quella funzione del secondo parametro è quello di andare a calcolare a ricevere informazioni su cosa c'è adesso e dirmi che cosa vuole mettere dentro ok e il risultato ovviamente è la nostra lista quindi potremmo dire list scusate lo copio da qua lista per nome compute ho la mia chiave che è p.get nome e poi ho la mia funzione di remapping che prende il nome la lista ok ve li metto ve li chiamo nel modo giusto e mi restituisce sostanzialmente la lista che vogliamo mettere lì dentro quindi uso un'espressione condizionale ma volendo possiamo anche utilizzare del codice più complesso quindi se la lista è nulla allora restituisce una new il get list altrimenti restituisce semplicemente la lista e questo sostanzialmente va a sostituire tutto questo codice qua e quindi in due righe ho scritto tutto quello che avevo scritto prima con il get vado a vedere se è nullo eccetera ovviamente qui sotto ho utilizzato un if avrei potuto utilizzare anche lì una in qualche modo un'espressione condizionale in realtà qui devo fare il put che viene fatto qui invece in maniera implicita quindi insomma è tutto semplificato ok oppure in alternativa compute avrei potuto andare a prendere una un'alternativa che è il compute is absent perché a me interessa sostanzialmente andare ad aggiungere una nuova lista se non c'è se c'è invece non faccio nulla vedete che semplicemente restituisco lista allora che cosa che cosa fa il compute allora compute ve lo scrivo qui sotto il la la dichiarazione ok della della funzione compute allora compute è un metodo di default della classe dell'interfaccia map che sostanzialmente non vi posso scrivere default qua perché non sono in un'interfaccia ma sostanzialmente restituisce è un public o chiave e valore ok sono sono i due i due tipi della chiave del valore della mappa restituisce il valore e riceve come parametro ok un oggetto key di tipo chiave ok parto sempre dalla chiave ok nelle mappe uso sempre la chiave e accetta come parametro quello che è una b function ve la scrivo così e che sostanzialmente accetta e questo è quello che si chiama remapper la b function è un'interfaccia ve la scrivo in maniera un po' semplificata rispetto alla b function quella vera ma giusto per darvi un'idea di come funziona è un'interfaccia chiamavano così p1 p2 e r è una funzione che restituisce r e accetta come parametri p1 a p2 b l'ho scritto come fosse una funzione invece i parametri tipo vanno messi qua quindi la b function è una interfaccia funzionale che ha come unico metodo un metodo che accetta due parametri tipo p1 e p2 e restituisce un valore di tipo r ok e che cosa fa compute accetta la chiave accetta questa funzione e la compute va sostanzialmente a recuperare il valore esistente che c'è dentro la nostra mappa e ovviamente questo è un metodo della mappa quindi la mappa c'è e fatemela mettere abbiamo una mappa chiave e valore lo metto maiuscolo così evitiamo quindi sostanzialmente ha una variabile v è uguale a this.get della chiave poi fa remapper punto function passa la chiave passa il valore v new value poi fa this.put key new value e poi fa un return di new value quindi quando chiamo compute su questa mappa il risultato è che va a recuperare il valore corrispondente attualmente alla chiave chiama il metodo di questo remapper passandogli la chiave e il valore che ha trovato si aspetta che questa funzione restituisca un nuovo valore il quale viene inserito al posto del precedente e alla fine restituisce il valore che è stato calcolato dal remapper quindi quello che abbiamo fatto noi qua è sostanzialmente andare a dire io voglio andare a prendere questa qui è la chiave la funzione che abbiamo messo qua sotto è il remapper che riceve la chiave che ha specificato il valore attuale e se il valore attuale è nullo allora ne crea una nuova lista altrimenti non fa nient'altro che restituire il valore attuale ok domanda in compute lista dove lo troviamo beh lista è un parametro è il parametro della nostra della nostra lambda nome e lista quindi in questa funzione lista è il valore che c'era prima che se è nullo ci porta a creare una nuova una nuova lista altrimenti non ci restituisce nulla domanda quindi compute ricava automaticamente la lista sì compute sostanzialmente fa questa operazione qua va a recuperare in questo caso nel nostro caso specifico k viene sostituito con string e v viene sostituito con list di persona quindi va a prendere la mappa che è per nome ottiene la lista la passa assieme alla chiave al remapper il remapper restituisce il nuovo valore questo nuovo valore viene sostituito a quello precedente e viene anche restituito infatti il computer restituisce poi la lista questo metodo nel caso di valore semplice sarebbe inutile allora sì e no allora normalmente per semplice immagino la domanda è la ripeto così chi ascolta la registrazione capisce la domanda è questo metodo di compute per un valore semplice sarebbe inutile dove per semplice immagino si intenda una classe di base una stringa un integer insomma o anche una persona quindi non un contenitore quindi in quel caso il metodo compute è un po' meno utile ok ma non necessariamente perché se immaginiamo immaginate di avere una mappa non so stringa stringa dove nel valore noi andiamo a mettere andiamo a concatenare tutti i messaggi che vengono passati ecco in quel caso il compute potrebbe essere utilizzato per andare a concatenare quindi creare una nuova stringa che racconta la concatenazione di quello che c'era prima più quello che c'era dopo sicuramente questo metodo è molto utile quando io ho dei tipi composti quindi dei contenitori però non direi che è esclusivamente applicabile in quel caso questo tipo allora noi abbiamo utilizzato la funzione il metodo compute quando in realtà il tutto poteva essere fatto con un metodo che è un pochettino più semplice che si chiama compiutifabsent perché a noi interessa andare a recuperare la lista cioè creare una nuova lista se è assente se c'è già non dobbiamo fare nulla quindi invece di fare questo fatemelo scrivere qua sopra e vado a commentare questo qui invece di fare compute potrei dire vai a calcolare il nuovo valore soltanto se non c'è un valore precedente quindi compute if absent se andiamo a vedere è un pochettino più complicato allora ve lo scrivo qua sotto così è più facile da capire il metodo compute if absent funziona in questo modo compute if absent a parte che forse fatemi un attimo vedere se riusciamo a vedere il codice ok questo è il codice originale del compute e ok evito di riscriverlo vado a farvi vedere direttamente il codice nella classe map allora il metodo compute if absent riceve come parametri una chiave e una function la function è un'interfaccia funzionale che ha un unico metodo che si chiama apply che ha come parametro il primo elemento e un certo risultato che e questa si chiama mapping function quindi verifica ovviamente che non sia nullo questo oggetto dopodiché se il valore che ottengo dalla chiave è uguale a null ok se quindi non c'è un valore allora dico vado a chiamare la mapping function verifico che il risultato non sia nullo ovviamente e poi faccio put chi è il nuovo valore e restituisco un nuovo valore se invece la get mi restituisce un valore che non è nullo semplicemente vado a restituire il valore che mi ha restituito quindi come faccio a utilizzare il compute if absent qui non ho la lista perché so già che automaticamente è nulla mi viene passata la chiave attenzione mi viene passata la chiave perché in generale questo metodo magari potrebbe utilizzare la chiave per andare a costruire il nuovo valore e sostanzialmente fa un return della nuova linked list scusate il return non serve perché ho già una lamb quindi vado a recuperare la mia lista e è un po' più facile un po' più semplice perché a noi interessa veramente andare a calcolare la nuova lista soltanto se è assente ok ovviamente nel caso precedente della compute volendo dentro questo metodo questo remapper avrei potuto andare ad aggiungere questo add dp ok l'ho tenuto fuori in modo da mantenere il remapper più semplice possibile però questa è l'altra alternativa ora se non ho scritto delle stupidaggini eseguendo tutto il codice noi dovremmo avere sostanzialmente la stessa lo stesso output fatto in un modo e fatto nell'altro qui cambia vagamente l'ordine ha scambiato le due prime due non so bene perché perché probabilmente essendo un hash map non mi garantisce l'ordine e probabilmente con la compute mi ha variato l'ordine però direi che la mappa è sostanzialmente la stessa ok ci sono poi tutta un'altra serie di metodi definiti nell'interfaccia map che possono essere utilizzati per scopi analoghi io ovviamente non vado a raccontarvi tutto ma se faccio op polito ip api e vado vado a prendervi java utile map ci sono una serie di metodi default che possono essere utilizzati quindi abbiamo visto la compute abbiamo visto la compute if absent c'è una funzione che si chiama compute if present ok quindi va a ricalcolarmi la il valore se è già presente c'è il metodo for each che sostanzialmente mi permette di andare a scandire tutti gli elementi ovviamente non ha una funzione semplice come parametro ma una b function perché passerà sia la chiave che il valore c'è un metodo che si chiama get or default che sostanzialmente va a recuperare il valore la chiave associata a quella il valore associato a quella chiave oppure se non c'è quella chiave mi restituisce un valore di default c'è una funzione che si chiama merge che è ancora più complicata di quella precedente perché riceve come parametri una chiave un valore e poi un'altra funzione che sostanzialmente va a prendere va a ricevere due parametri che sono la chiave precedente la nuova chiave cioè quella che viene passata come parametro e mi restituisce una terza chiave put if absent che mi mette un valore se non c'è già prima la chiave e risieduce il valore volendo avrei potuto utilizzare anche questo put if absent per andare a aggiungere il valore non vi faccio l'elenco di tutti questi metodi ma sappiate che molto spesso se c'è una qualche esigenza particolare di andare a ricalcolare le chiave all'interno di una mappa è possibile che esista già una funzione di default che vi fa buona parte delle operazioni quindi tornando al nostro codice è ovvio che scrivere queste tre righe usando la computif absent è decisamente più comodo che andare a scrivere tutto questo blocco di codice qua a questo punto proviamo a fare qualche esempio in più analogo a quello che c'erano nelle slide della lezione offline asincrona quindi vado a crearvi una nuova classe chiamo parole in cui vado a utilizzare questa classe che è già sul repository dove ci sono i testi di alcune canzoni per cui andiamo a prendere ad esempio la canzone che si chiama la fiera dell'est quindi il test è uguale a l'ex punto alla fiera dell'est l'ex ovviamente deve essere importato me l'ha fatta automaticamente eclips da it polito più data a questo punto quello che voglio fare è andare a suddividere le mie il mio testo parola per parola ok per cui vado a ottenere ad esempio una array di string che è uguale a text punto split e qui vado a mettere il separatore il separatore può essere messo come espressione regolare vedremo più avanti cos'è un'espressione regolare diciamo che andiamo a separare in base agli spazi to string di parole vedete che abbiamo le suddivisioni ovviamente la suddivisione essendo fatta sugli spazi mantiene dentro le stringhe gli a capo quindi una cosa che possiamo mettere e aggiungere lì a capo molto velocemente un'espressione regolare è un modo di andare a descrivere una sequenza di caratteri che può essere variabile uno degli operatori più semplici delle espressioni regolari è racchiudere tra quadre quella che si chiama una classe di caratteri ovvero quell'espressione regolare è in grado di descrivere una uno qualunque di quei caratteri quindi lo spazio a capo se volete possiamo anche togliere il punto a capo possiamo togliere il punto la virgola usare tutti questi come separatori ovviamente scritto così vuol dire che io prendo un unico carattere come separatore posso mettere un più dopo per andare a dire uno o più di quei caratteri di seguito formano un separatore anche l'apice a questo punto vedete che ho le virgole che mi separano tutte le parole allora qualche piccolo esercizio su questa sequenza di parole quindi esercizio uno stampare estrarre le parole uniche che compaiono nel testo ad esempio vedete che alla fiera dell'est sono parole che compaiono essendo un ritornello più volte quindi vorrei vorrei poterle stampare eliminando i doppioni quindi stampare una volta alla fiera eccetera e come come posso fare quest'operazione lo scopriremo dopo una breve pausa allora ripilogando quello che abbiamo fatto qua io sono andato a prendere questa costante che è nel file lyrics che vi ho condiviso che contiene sostanzialmente il testo e poi ho fatto un'operazione di split split accetta un'espressione regolare descritta come una stringa che mi dica come è fatto il separatore se io metto un unico carattere lo spazio e il separatore per forza è quello è quello io volevo andare a fare una separazione che considerasse come separatori non soltanto lo spazio ma altri caratteri ad esempio la capo virgola punto apice eccetera e quindi ho utilizzato questa espressione con le quadre e mi dice va bene uno qualunque di questi caratteri se non mettessi le quadre vuol dire che li dovrei considerare in sequenza quindi spazio seguito da capo seguito da punto seguito da virgola invece le quadre mi dice uno tra questi caratteri il più che segue sostanzialmente mi dice prendi quello che precede in questo caso uno tra quei caratteri e considero ripetuto una o più volte quindi se le quadre fossero proprio il separatore come procedo c'è un'altra espressione condizionale per le quadre oppure posso mettere il backslash davanti ma ripeto torneremo a parlare di espressioni regolari a breve quando parleremo anche di input output perché sono uno strumento molto utile quindi almeno i concetti fondamentali li vedremo torniamo a questo punto al nostro problema di partenza che era quello che vi ho elencato qui ovvero ho la mia lista di parole e vorrei il più dice che posso ripetere questi caratteri più volte quindi se ho due spazi questi vengono considerati come un separatore unico o se ho spazio punto a capo e apice questi vengono considerati come una sequenza unica e come separatore se invece mettessi un unico carattere vuol dire che quando ho due spazi uno dopo l'altro il risultato è che vengono considerati come separatori diversi quindi i due spazi vuol dire che in mezzo c'è un elemento vuoto quindi verranno tante stringhe vuote diciamo diciamo che vogliamo avere una lista parole ok così partiamo dalle liste invece che usare gli array e ce li dimentichiamo quindi list di string lista uguale la classe arrays ha un metodo che si chiama aslist che riceve come parametro parole quindi un array scusatemi aggiungo qua e io importo list altrimenti non era corretto quindi questo mi crea sostanzialmente una lista basata sull'array che viene dato piccola parentesi nelle versioni un po' più nuove di java quindi diciamo dalla nuova in avanti noi usiamo come versione di riferimento la 8 ma nelle versioni successive c'è anche la possibilità di scrivere lista uguale a list punto of parole quindi list of e qui passo un array e quindi questo vuol dire che prende tutti gli elementi di questa lista e li mette dentro attenzione questo è jdk mi pare maggiore di 9 o meglio maggiore uguale di 9 quindi in jdk8 quella quel metodo statico of non c'è l'idea di base è prendo un array e lo trasformo in una lista andando a raggiungere tutti gli elementi dentro la lista obiettivo andare a prendere tutte le parole uniche quindi eliminare i doppioni eliminare i doppioni è abbastanza facile perché io posso prendere un set di stringhe s uguale new hash set di lista ovviamente devo importare sia set fatemi scrivere così faccio import java.util punto asterisco così evitiamo di dover importare tutte le volte ok questo importa tutte le classi che si trovano nel package java.util e poi puoi stampare s quindi vedete che mi ritrovo le parole in un ordine un po' strambo però compaiono una volta sola sono molte meno rispetto a quelle di prima infatti se vado a stampare scrivere così aperta tonda più s punto size più chiusa tonda più s mentre invece qua su stampo la mia lista ok allora la lista originale ha 423 parole quella nuova ne ha 42 domanda quindi bastano queste due righe in realtà ne basta una perché poi la stampa insomma un po' così in più ne basta una esattamente per andare a risolvere il problema perché per appunto tutti i set scartano i duplicati quindi sostanzialmente il costruttore di hash set a cui passa una lista che cosa fa scandisce tutti gli elementi a lista li aggiunge ma l'aggiunta di un elemento che è già presente nel set sostanzialmente viene scartato e quindi sì basta questo il commento che vedo adesso in chat risponde all'esercizio 2 le parole uniche in ordine alfabetico e per l'appunto invece di utilizzare un hash set vado a utilizzare uso la stessa variabile così evito di scriverne inventarne tante invece di utilizzare un hash set vado a creare un tri set a questo punto eccole qua in ordine alfabetico attenzione ricordatevi che le maiuscole nell'ordinamento alfabetico vengono prima delle minuscole quindi alla viene prima di acqua e morte con la m maiuscola viene prima di acqua quindi l'esercizio è quello di stampare tutte le parole una volta sola sì esercizio 3 mentre ci siamo in ordine alfabetico inverso idee ok passare un comparatore esattamente quindi ho un tri set devo usare un tri set perché il il hash set non è ordinato il tri set sostanzialmente scusate posso utilizzarlo passandogli un comparatore quindi comparator punto reverse order a questo punto vediamo qualcuno di voi forse l'ha già visto in qualche caso particolare cannot infer type argument of tri set perché il comparatore perché il compilatore non è in grado di identificare il tipo di comparatore allora una possibilità allora vediamo se mi lascia scrivere in questo modo una possibilità è questa di andare a mettere un retor di stringhe inverso e andiamo a mettere qui questa dichiarazione in questo caso ovviamente il tipo è dato dalla variabile a cui assegno e qui vado a mettere inverso questo mi sembra veramente strano e qui è Allora, il 3-7 senza parametri. Scusatemi, ero convinto ci fosse il 3-7 a partire da... Ok, non c'è il costruttore che accetta il comparatore e la lista. Quindi devo fare in due passaggi. Quindi creo il 3-7, ovviamente il punto non mi serve. E poi faccio un s.add all e vado a mettere la lista. Ok, ero convinto ci fosse il costruttore con la lista, con la collezione più il comparatore. Allora invece c'è soltanto quello con il comparatore o con la lista. E quindi devo usare il metodo addAll che aggiunge tutti gli elementi della lista qui dentro. A questo punto il risultato è ovviamente l'ordine inverso. Ok, questo qua è l'agizio 3. Quindi il 3-7, vedete, può avere dei comparatori. Ovviamente posso andare a fare un altro comparatore che mi dà, non so, ordinamento per lunghezza della stringa, quindi dalla parola più lunga a quella più corta, eccetera. Quindi se volete, esercizio 4 in ordine di lunghezza decrescente. Qui non è inverso, ma bensì è un qualcosa che prende a, b e restituisce b.lent. Quindi se faccio questo ho, vedete, macellaio che è la parola più lunga, e poi le altre a scendere. Un effetto collaterale è che, andando a costruire il mio albero sulla base del confronto, quando trovo due stringhe che hanno la stessa lunghezza, queste non le posso mettere tutte e due, perché il comparatore mi dice che sono uguali. Quindi nell'albero che corrisponde al nostro 3-7, può comparire un unico noto. Quindi vedete che in questo caso ho nove elementi. Perché? Perché ci sono tante parole con la stessa lunghezza che quindi vengono a collidere l'una con l'altra. Quindi attenzione quando utilizzate i comparatori fatti così, perché il rischio è di avere dei valori, soprattutto su un 3-7, che vanno a cancellare degli elementi. Domande. In questo caso andrebbe affinato il comparatore? Allora, una possibilità è quella, sicuramente. Posso utilizzare un comparatore che va a confrontare meglio i valori. Però dovrei, non so, moltiplico la lunghezza per cento e sommo la differenza tra le stringhe e ottengo un qualcosa che mantiene i valori ordinati. Però, oppure potrei utilizzare un... un comparatore che prende questo e poi... Scusatemi, vado fino in fondo. Poi fa un then comparing. Allora, non me l'ha preso, ma possiamo riscriverlo in questo modo. Se ho sbagliato soltanto le parentesi. Scusatemi, lo riscrivo così, è più facile da leggere. Quindi, confronto prima tra le lunghezze e poi faccio un confronto. Il then comparing mi prevede di avere un key extractor. In realtà, l'estrattore è la stessa string. Quindi, a parità di lunghezza, ordino in base all'ordinamento tra le stringhe. Quindi, in questo caso, vedete che me li ritrovo tutti perché l'ordinamento è un po' più raffinato. Allora, domanda. Perché non riesci a infelire le verse order? No, in realtà era un errore mio perché ero convinto che ci fosse un costruttore con due parametri, invece non c'era. Per cui l'errore era sostanzialmente quello. Quindi, il compilatore in questo caso riesce effettivamente a inferire il tipo di reverse order perché il trisette è ovviamente un trisette di stringhe e quindi questo deve essere un comparatore di stringhe. Quindi funziona. Posso far vedere l'implementazione di reverse order? Sì. Allora, lo potete fare anche voi. Quindi, quando voi selezionate una funzione, scusate, un metodo, con F3, andate a saltare direttamente alla sua definizione. Vedi qui, in questo caso particolare, reverse order richiama un metodo che sta in collection che si chiama Allo Stesso Modo, per cui andiamo a cercare anche questo. e va sostanzialmente a prendere un reverse comparator, punto reverse order, quindi è un comparatore che già esiste, e crea un oggetto che si chiama reverse comparator, che è sostanzialmente questo, che sostanzialmente il punto fondamentale è questo, fa un comparable C1 e C2, due oggetti, e fa C2 punto comparator C1. Ok? Adesso chiudo questa parentesi perché altrimenti ci perdiamo. Allora, un attimo che torno sulla chat perché mi sono perso alcuni commenti prima. Domanda. Se le stringhe quando ha la stessa lunghezza il comparatore restituisce 1, sì, però poi non riesce a fare l'ordinamento corretto, quindi non riesce a identificare se un elemento già esiste, e quindi non li scarta mai. cioè non possiamo andare a giocare con i comparatori, nel senso che i comparatori devono fare effettivamente un confronto. Domanda. Allora, sto notando che i caratteri non vengono stampati correttamente perché la... Allora, vi apro l'irix. Se voi lo aprite probabilmente vi ritrovate qui. Ecco qua. Il compro ve lo ritrovate diverso. Ok? Non lo trovate sul vostro PC corretto. Perché? Perché l'irix, se andate a vedere le properties, ha come codifica, che sul mio computer è di default, UTF-8. Se voi trovate qui una default che non è UTF-8, ma è probabilmente l'ISO 8859.1, se avete Windows, quello che dovete fare qui è andare sostanzialmente a scegliere ADAR e mettere tra quelle che avete a disposizione UTF-8. Quindi andare a ridefinire il tipo di codifica. A questo punto, una volta che Eclipse sa che quello è codificato in UTF-8, interpreta correttamente i caratteri accentati. Allora, domanda, questo AF-REC-A che cosa significa? Allora, il DEN-Comparing, se ricordate, è un metodo che richiede un estrattore di chiave, e quindi dati gli elementi di un contenitore da ordinare, il DEN-Comparing aggiunge al comparatore precedente un secondo livello di confronto. Quindi se in base al comparatore precedente due elementi sono uguali, viene aggiunto un altro confronto che li differenzia ulteriormente. In questo caso, il confronto viene fatto sulla base di un estrattore di chiave, ovvero, dato l'elemento, viene estratto un attributo, di solito, e sulla base di questo attributo viene poi fatto il confronto. Nel caso specifico nostro, gli elementi sono già elementi, diciamo così, semplici. Si tratta di string. Quindi non vado a estrarre un attributo, ma vado a estrarre sostanzialmente il valore stesso. E quindi faccio il confronto non su un attributo delle stringhe, ma sulla stringa stessa. Visto che il confronto precedente l'avevo fatto sulla lunghezza delle stringhe, questo lo faccio sulla stringa stessa. e quindi uso il confronto lessicografico standard tra le stringhe. Quindi, se volete, il then comparing lo sto usando in un caso molto particolare. Se volete, questo lo possiamo anche scrivere in questo modo. andiamo a prendere le due stringhe A e B che vogliamo andare a confrontare, o meglio, parola 1 e P2 e poi vado a dire int confronto lunghezza è uguale a P2 punto length meno P1 punto length if if CFRLN è diverso da 0 allora return il confronto tra la lunghezza altrimenti return P1 punto compare to P2 e quindi questo equivale a quello di sopra quindi il then comparing mi fa questo if e mi fa un confronto e quindi va ad applicare questo compare to tra P1 e P2 domanda potrei anche usando un triset dove il valore è uguale alla lista di stringhe forse non un triset ma un trimap sì potrei utilizzare una mappa nel caso in cui abbia degli elementi con lunghezza uguale sì domanda posso rispiegare perché non erano supportati i valori considerati equivalenti del compilator allora sì torno alla prima variante ok questa qui ve la metto dopo e torno alla prima variante in cui andavo a mettere questo retro ve lo scrivo ancora in un altro modo comparing int string due punti due punti lento punto reversed fa un ordinamento in base alla lunghezza delle stringhe ma in ordine inverso è uguale a questo il risultato è sostanzialmente lo stesso solo che l'ho scritto in maniera leggermente diversa a questo punto se faccio quello e poi aggiungo tutti gli elementi alla mia lista il risultato qui è che immaginate un albero binario quando io devo andare ad aggiungere un elemento vado a cercare nel mio albero binario se c'è un nodo identico a quello che voglio andare ad aggiungere come faccio a capire se è identico me lo dice il comparatore quindi due nodi cioè che corrispondono a due stringhe sono considerate uguali se il comparatore mi dice che sono uguali per cui se inserisco due volte inserisco due stringhe che hanno la stessa lunghezza quelle due stringhe verranno considerate identiche e quindi la nuova stringa che cerco di inserire verrà scartata questo tipo di comportamento ha perfettamente senso se io confronto faccio un ordinamento alfabetico alfabetico inverso come abbiamo fatto sopra quando faccio delle lunghezze no perché a questo punto mi ritrovo due stringhe che sono profondamente diverse ma semplicemente hanno in comune la lunghezza e ovviamente ne scarto una questo perché proprio per come è costruito l'albero perché il nodo se c'è in base al comparatore deve essere uguale e questo è il motivo per cui per evitare di scartare adattare stringhe con lunghezza stringhe diverse ma con lunghezza identica allora devo fare quello che ha scritto sotto quindi devo andare ad aggiungere un altro pezzo di confronto in modo che le due stringhe che hanno la stessa lunghezza non vengono considerate identiche a meno che non siano anche uguali per cui dopo aver fatto un confronto in base alla lunghezza vado a fare un confronto in base alla stringa stessa a questo punto proviamo a contare quante volte compare una stringa nel nostro stream come facciamo vuol dire che dobbiamo mantenere un'informazione su quante volte è già comparsa quella stringa all'interno del nostro stream ovvero quando trovo una nuova stringa all'interno della mia lista devo andare a verificare se quella stringa è già comparsa prima andare a prendere il suo numero di la sua frequenza e incrementarla di uno per fare una ricerca in base alla stringa stessa ovviamente posso utilizzare una lista posso utilizzare qualcosa di semplice ma direi che la struttura dati ideale è quella di utilizzare una mappa quindi posso utilizzare una mappa string la parola integer il conteggio ok uguale new mishmap ok se non mi interessa l'ordine delle parole e a questo punto faccio un ciclo per ciascuna parola e vado a scrivere for string p in la mia lista cosa faccio? se la parola è la prima volta che la trovo devo aggiungere sostanzialmente uno se invece la parola è è già comparsa più volte devo semplicemente andare a incrementare quindi andrò a fare un conteggio ve lo scrivo col compute ok sappiate che lo posso scrivere anche senza come abbiamo visto nella prima parte della lezione conteggio punto compute la chiave è la p la parola dopodiché ho la mia parola virgola la frequenza freccia se la frequenza è uguale a null nel senso che non è mai stata trovata prima allora la frequenza è uno altrimenti è la frequenza precedente più uno quindi lo posso fare come un'espressione condizionale quindi se frec è uguale a null allora uno quindi in realtà è un integer quindi quello vuol dire vado a creare un nuovo oggetto di tipo integer con valore uno oppure frequenza più uno quindi boxing e unboxing faccio un unboxing della frequenza assumo uno e faccio un boxing in un nuovo integer quindi vado a pescare se esiste un valore che ha la chiave P e chiamo questo remapper che prende la frequenza se la frequenza è nulla allora rimappa la frequenza sull'intero che corrisponde a uno altrimenti rimappa la frequenza sulla frequenza precedente più uno andiamo a stampare questo conteggio vedete che e compare dieci volte angelo due sul due troppo dieci gatto dieci uccise tre toro quattro spense quattro morte due eccetera ok quindi l'idea è vado ad aggiornare l'elemento come 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 facevo notare nella lezione asincrona che ho pubblicato qualche giorno fa questo è abbastanza questa operazione qui è abbastanza pesante perché in realtà io la dovrei andare a scrivere se non ci fossero non ci fosse il boxing questa cosa qui equivale a scrivere vado a capo così c'è più di spazio se la frequenza è uguale a null qui faccio un integer appunto value of di uno altrimenti integer punto value of frequenza punto int value più uno questo vuol dire che a ogni interazione quando vado a sommare ad esempio questi dieci occorrenze della variabile vuol dire che alla prima occorrenza vado a creare un oggetto integer in tutte le nove occorrenze successive vado a prendere il valore precedente sommo uno e creo un oggetto integer che ha quel valore questo ovviamente in termini di occupazione di memoria e in termini di tempo di esecuzione perché comunque ho un costruttore una chiamata a funzione mi comporta un certo dispendio ok un altro modo di fare un conteggio è utilizzando una classe apposita contatore che ha un intero i un metodo void incrementa ovviamente inizializzato a zero questo è ovviamente ridondante ma giusto per sottolinearlo e poi string 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 return string punto value of definisco una classe contatore che è sostanzialmente uguale a un integer ma questa è una classe mutabile ok mentre invece integer è immutabile a questo punto vado a definire una mappa che a fa ogni string fa corrispondere un contatore contatori uguale new stavolta vi metto una tree map così ve la ordina l'ordina in base alla chiave che è la parola for string p in lista e qui vado a utilizzare sostanzialmente il il computer absent perché in realtà non è che devo ogni volta andare a rifare un mapping ma devo semplicemente aggiungere un nuovo contatore quando non lo trovo quindi contatori punto computive absent la mia parola e qui un qualcosa che mi prende la chiave che in realtà è la mia parola ma non non mi interessa e mi restituisce un new contatore ok e su questo vado a fare un punto inc quindi vado a fare un incremento sull'oggetto contatore che mi ha restituito e che è o quello già precedentemente creato oppure quello che ho creato lì se è la prima volta che incontro quella parola a questo punto ed in questo caso ho le parole di prima sono ordinate ma non perché ho utilizzato il contatore ma semplicemente perché ho utilizzato una trimap che mi mantiene le chiavi ordinate e i valori calcolati esattamente quindi uguali a quelli di prima se li confrontate ad esempio e compare 10 volte 20 perché qui ho messo due volte il conteggio ma se andiamo a eseguirlo vedete di comparire 10 volte prima e compare 10 volte adesso e quindi siamo tornati a vedere quei due aspetti nuovo esercizio verso il conto ma va bene così stampare le liste di parole che hanno la stessa lunghezza quindi voglio andare a prendere le parole raggrupparle in base alla lunghezza e poi stamparle questo lo posso fare andando sostanzialmente a costruire a riempire una mappa che usa come chiave la lunghezza e alla lunghezza fa corrispondere che cosa? una lista ring fa un mapping da una lunghezza a una lista di parole per lunghezza uguale new diciamo trim up così mantiene in ordine di lunghezza ok e qui il gioco è sostanzialmente quello di prima ok for string p in lista andiamo a prendere per lunghezza punto compiutif absent la parola poi new linked list di string punto add scusate p solo che qui la ricerca non è per parola chiave ma è p punto length non posso utilizzare qui la p ok perché c'è già come variabile ok quindi devo dargli un nome diverso il risultato però è che questo per lunghezza compiutif absent mi restituisce o una nuova linked list oppure la linked list che corrisponde alle parole con quella lunghezza e se non in ogni caso aggiunge se non esisteva me la crea in ogni caso aggiunge la parola a quella lista a questo punto se la stampo scusate stampo per lunghezza vedete che ottengo lunghezza 1 e l l l e lunghezza 2 attento ho indito qua lunghezza 2 un un il si il la i si ok questo perché ho usato una lista e quindi ogni volta che trovo una parola una parola la raggiungo domanda compiutif absent se il valore non è nullo ritorna al valore che c'è già esattamente compiutif absent è un get and compute if absent se volete un nome più significativo quindi fa un get se c'è già altrimenti calcola il valore e fa un add cioè fa un put scusate e ovviamente restituisce quindi in ogni caso il compiutif absent mi restituisce o la lista che c'era prima oppure la lista che crea con questo mapper qua se non volessimo i doppioni dovremmo utilizzare un set esattamente quindi uniche quindi se andiamo a mettere non una lista ma qui un set e qui andiamo a mettere un set devo fare su questa variabile ok quindi per lunghezze uniche compiutif absent quindi se non c'è creo un nuovo preset e in ogni caso faccio un add della parola se vado a stampare queste ottengo vedete uno e ed l due a il si un tre est che due mio per e sul quattro al cane dell eccetera ok questo evitando i pubblicati e se volete domande è possibile fare una mappa di mappe certamente è possibile fare una mappa di mappe gli usi quindi sono un pochettino più ridotti ma sì sicuramente è possibile farlo attenzione che già una mappa con i set è complicata se fate una mappa di mappe è complicata da gestire quindi se vi serve veramente fatela ma attenzione perché poi è complicato da capire com'è com'è strutturata però sì in alcuni casi si usa volendo fare un altro passo ulteriore e in ordine decrescente di lunghezza vado a prendere sostanzialmente quello di prima e decrescente 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 e qui invece di fare una tree map normale vado a mettere una tree map con un comparator punto reverse order quindi a questo punto parte dal 9 lunghezza più lunga che c'è macellaio 8 topolino 7 abbiamo signore bastone mercato picchiò 6 angelo bruciò eccetera a questo punto piccola notazione di diciamo sintattica tutte le liste hanno sostanzialmente un metodo che si chiama list punto no scusate lista punto for each che accetta un consumer ovvero un'interfaccia funzionale che ha un unico metodo che accetta come parametro un elemento della lista quindi il for each sostanzialmente prende p e volendo rifare sostanzialmente questa cosa che abbiamo appena fatto quindi andiamo a creare di nuovo un'altra mappa così svuotiamo quella di prima e poi la ristampiamo dopo possiamo andare a fare p freccia tutif absent p.lent e k freccia punto add d e punto virgola giustamente ve la ridefinisco così mappa e mappa anche qua ok così funziona non funzionava prima perché la per lunghezza unica decrescente era riscritta se ricordate quando io utilizzo una classe interna anonima i parametri le variabili locali utilizzate devono essere finali o effettivamente finali nel senso che questo riferimento non deve cambiare altrimenti ho un'ambiguità su come viene utilizzata come può essere quale può essere il risultato di questa di questo metodo di una classe interna anonima e questo è più in stile funzionale e sostanzialmente ci dà esattamente lo stesso risultato di quello di prima questa diciamo se volete è diciamo in stile imperativo nel senso che uso delle istruzioni esplicite un ciclo for esplicito questo è in quello che si chiama uno stile funzionale nel senso che non ho un'istruzione di for che mi ripete ma ho una una funzione che richiama più volte lo stesso lo stesso metodo su tutti gli elementi domanda quindi è come se passassimo il corpo del for del for ic come parametro del metodo sì esattamente quasi come se in pratica vado a prendere la variabile di iterazione e che è p in questo caso esattamente come prima ho la lista esattamente come prima solo che qui faccio lista appunto for each quindi invece faccio for each p in lista non devo andare a specificare il tipo di p perché qui viene inferito che potrei anche metterlo ma sostanzialmente non non è necessario e tramite l'inferenza di tipi i tipi generici il tipo di p qua il tipo di k qui che poi non viene utilizzato vengono inferiti automaticamente quindi il codice viene compilato correttamente ok ultimo esercizio questo questo è un pochettino più complicato immaginiamo di voler andare a stampare una graduatoria a questo punto noi dobbiamo andare a prendere tutti gli elementi di questa nostra mappa e stampare la posizione e di conseguenza il la l'elemento che sta in quella posizione ok di nuovo potremmo utilizzare una mappa in realtà possiamo anche utilizzare una lista nel senso che la posizione sostanzialmente è incrementale anche se quando mi ritrovo ad esempio qui tutti questi che sono pari merito ragionevolmente gli do la stessa posizione ok quindi diciamo che è un po' più corretto andare a dare la posizione piuttosto quindi una mappa piuttosto che usare una lista ok quindi posso utilizzare graduatoria per lunghezza decrescente quindi ho una mappa integer che è la posizione in graduatoria e poi ho gli elementi di lista di parole che stanno in quella posizione ok quindi graduatoria uguale new ovviamente andrò a mettere un 3.7 una volta crescente nel senso che il primo in graduatoria è quello con indice 1 scusate non 3.7 ma 3. map e quindi a questo punto ho una scansione non sulla lista ma sulla mia mappa quindi come faccio a fare una scansione sulla mappa devo andare a prendere tutti gli elementi della mappa ma mi interessano sia la chiave perché la chiave è la lunghezza sostanzialmente ma poi anche il valore ok quindi ho diversi modi di farlo uno di questi modi è di andare a prendere non la chiave non il valore ma la coppia chiave-valore ovvero quello che si chiama l'entry quindi posso andare a fare un for a entry integer virgola lista di string entry in mappa quindi vado sostanzialmente a scandire gli elementi che stanno qua non una lista ma set ok vado a prendere questi non posso farlo sulla mappa perché la mappa non è qualcosa di iterabile se ho una mappa come faccio a iterare itero sulle chiavi o sui valori o sui set mappa ha un metodo che si chiama entry set che mi dà il set di tutte le entry che sono presenti nella mappa che cos'è la entry la entry lo vedete come scritto qua entry è una classe che è definita dentro la mappa e rappresenta per l'appunto il singolo elemento che sta nella mappa ed è la coppia chiave valore se volete con andiamo a vedere come dichiarata la entry dentro la mappa vedete è un'interfaccia e ha un metodo che si chiama get key e un altro metodo che si chiama get value ok ovviamente ha anche un set value se io voglio andare a cambiare la chiave ha un equals l'hashcode eccetera eccetera ok quindi sostanzialmente la 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 tree map e l'hashmap avranno delle entries fatte leggermente diverse ok non saranno esattamente identiche perché capite che la struttura dati è diversa però in termini astratti le entry che vengono utilizzate sia all'interno dell'hashmap che della tree map implementano questa interfaccia per cui il metodo entry set che cosa fa mi restituisce l'insieme è un insieme perché visto che le chiavi sono uniche le entry ovviamente saranno uniche mi dà il set di tutte le entry che stanno dentro questa mappa essendo una tree map me lo dà in ordine di chiave e se fosse un ashmap me lo dà in ordine di hash che quindi è un qualcosa di non facilmente comprensibile a questo punto avendo tutte le mie tutte le mie entry quello che posso fare è definire una variabile int ranking uguale 1 il primo ranking è quello la prima posizione quindi andrò a fare un graduatoria punto put ranking e qui vado a mettere una lista con tutti gli elementi che stanno in quel set quindi new linked list e che cosa metto? metto sostanzialmente entry punto get value vado a prendere il valore di questa entry che è un set lo passo al costruttore di questa linked list e quindi dentro la mia graduatoria vado a mettere il ranking la posizione 1 2 eccetera e tutti gli elementi che corrispondono a questo punto una volta che ho giunto in posizione 1 o macellaio devo andare a calcolare il ranking della prossima posizione non posso scrivere semplicemente ranking più più perché in terza posizione non ho un unico elemento ma ne ho 1 2 3 e 4 e quindi ci sono 4 posizioni 4 elementi a pari merito in terza posizione e quindi non incremento di 1 ma incremento di 4 quindi il prossimo elemento non sarà in posizione 4 ma sarà in posizione 7 quindi il mio ranking viene incrementato di e.getvalue .size e qui system.out println la mia graduatoria quindi vedete è sostanzialmente una ridefinizione della mappa in cui sostituisco al conteggio la posizione quindi 1 macellaio 2 dopolino 3 abbiamo tutti questi 7 14 eccetera la classe entry si no scusate la classe entry non implementa iterable è entry 7 che implementa iterable entry 7 mi restituisce un set di entry e il set implementa iterable l'entry è un elemento di quel insieme e quindi entry 7 è un insieme di entry la singola entry è quella che abbiamo visto prima che ha il metodo get value e get get key questa graduatoria ovviamente mi fa corrispondere a una posizione quindi data questa graduatoria io posso dato una posizione sapere quali sono gli elementi in quella posizione allora domanda quando inserisco in graduatoria vado a mettere come chiave la posizione e come valore una nuova lista costruita a partire da tutti gli insieme e gli elementi che stanno in quella posizione in quella lista in quel set associata a quella chiave quindi con questa mappa io sostanzialmente posso specificare una posizione e ottenere gli elementi che stanno in quella posizione la lista degli elementi che stanno in quella posizione se io invece avessi bisogno in maniera diversa di sapere data una parola in che posizione si trova e allora quella mappa lì non andrebbe più bene avrei bisogno di una mappa che fa corrispondere a ogni stringa quindi ogni parola un integer con la posizione ok quindi chiamiamolo posizioni anche qui int ranking lo inizializza uno sempre lui quindi or il ciclo foro è lo stesso la differenza è che in questo caso per ciascuno degli elementi dell'entriset vado a mettere la parola e la corrispondente chiave quindi vado a mettere e punto get value punto for each quindi per ogni entry scusate per ogni parola che mi ritrovo lì dentro vado a mettere sostanzialmente dentro la classe dentro la mappa posizioni posizioni punto put vado a mettere la parola e la sua posizione il problema è che in questo caso è ranking poi lo incremento r uguale ranking vado a mettere r ho dovuto fare questo passaggio intermedio perché se utilizzo ranking qua dentro deve essere final invece in questo caso inizializzo metto ranking in r e poi utilizzo r qua per la solita regola che le variabili locali utilizzate in una classe i metodi di una classe interna non devono essere finali o usate come fossero finali a questo punto posso andare a stampare le mie posizioni per cui ad esempio alla invece in una posizione macellaio e in prima quindi vedete che io qui ho creato due classi due mappe diverse con praticamente il stesso tipo di associazione quindi dato un ranking un insieme una lista di parole e nell'altro caso dato una parola il ranking corrispondente le due le due mappe però non sono equivalenti nel senso che con una dato dato una posizione posso ottenere il la lista di parole che stanno in quel ranking nell'altro dato una parola posso ottenere il suo ranking corrispondente e quindi a volte è possibile avere più mappe che vanno a contenere sostanzialmente gli stessi dati per permettere una ricerca fatta in maniera diversa direi che con questo per oggi abbiamo chiuso il prossimo laboratorio di mercoledì vi chiederà di utilizzare delle mappe e liste diciamo tutte le classi e le interfacce del frame o delle collezioni come esercizio pensate a ristrutturare i vecchi esercizi non tanto i Drawrix che è semplice ma magari gli university utilizzando le collezioni invece degli array che è semplice